Non è uno sport femminile, quindi quando cominciano le partite, quelle serie dure dove c'è veramente da tirare fuori il coltello, ci trasformiamo in delle guerriere. Signore e signori, buonasera, vi presenteremo la giornata del campanato di Serie A1 di quella nuova femminile, fra allenante e sinteria, è meglio stare tra la loro del polo. Mi raccomando la difesa. Vai ragazzi, forse, tutti insieme. FATEMOLETE! 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 Fuori dall'acqua sono allegra, è il mio nome. Mamma e babba hanno potuto ragionare a darmi questo nome perché sono una persona allegra. FATEMOLETE! È chiaro però poi quando entro nell'acqua entro con il coltello tra i denti. Io ho un tipo di gioco che do molto fastidio, nel senso che sono una che mi aggrappa, sono una che parto in contropiede. Lottare con una persona al proprio fianco è essere disposta a fare qualcosa per l'altra persona che forse non faresti neanche per te stessa. Difendere lei e sai che lei difenderà te. FATEMOLETE! Quegli attimi in cui stai in panchina è in quel momento il top perché tu sei abbaffanato come non mai, morto come non mai. E dici finalmente terra ferma, mi sto sedendo un attimo, riprendo il fiato e poi non vedi l'ora assolutamente di rientrare per ridare una mano, per spaccare il mondo come sempre. FATEMOLETE! Stare in panchina forse sono più stanca che giocare perché c'è la tensione. FATEMOLETE! Entri in acqua e vuoi vincere. Ci può essere davanti la sua sorella, non fa conto che devi vincere, quindi si vince. FATEMOLETE! Che sia l'avversario più forte del mondo che sia il più debole ci vuole comunque rispetto e quindi credo che giocare come una squadra in grado di giocare sia la cosa migliore per farlo. FATEMOLETE! Siamo entrati in acqua proprio convinte di quello che noi siamo e che possiamo fare. E subito dal primo tempo partiamo alle 5 a 0 e siamo state brave a mantenere la concentrazione fino alla fine, ecco. FATEMOLETE! Ci alleniamo mattina e sera quattro volte alla settimana, sempre per due ore, quindi siamo sempre continuamente a contatto. e quindi secondo me se non è una festa o comunque se uno non ci va col sorriso diventa poi una cosa troppo pesante e insopportabile invece essendo così appunto un terzo tempo continuo c'è questa intesa anche che si crea è fondamentale comunque sia per vincere che per stare bene insieme ma trovo un due tre sono manuela sono una tappo di bonzi sto bene? vado in televisione poi mia mamma vado? e sono il numero 11 questo qui è bellissimo ce lo potreste lasciare per sempre è diventato mio penuccio buongiorno buongiorno siamo qua con Manuela Viani chi sono le più fiche del campionato di serie 1? ovviamente la meglio staccato Waterfall non ci sono dubbi e daje chi è la tavani e sono il numero 8 con la calostria numero... aspetta di un minuto odio non ci sono il numero 12 come la prima cosa con la calostria numero 4 chiamo